Nulla da fare per il Castelnuovo nell'ambizioso impegno di Coppa Italia contro la Torres. Al comunale passano i sardi con il risultato finale di 0-3. Al termine una partita ben controllata e poi chiusa, grazie anche alla superiorità numerica di cui il Rosso Blu hanno potuto beneficiare per tutto il secondo tempo. Con le immagini di Andrea Di Blasio, passiamo agli elets della partita. Pronti via, dal quinto si fa vedere il Castelnuovo sugli sviluppi di un corner, con Orlando. La sua conclusione viene ribattuta dalla difesa ospite. Dall'altra parte i Rosso Blu si propongono con Turket, che chiude l'azione sul secondo palo ma è impreciso. Al quarto d'ora ancora i sardi in avanti con Sabatini, il tiro in porta è ben neutralizzato da Natale. La gara scorre via con equilibrio e alta intensità. Al trentottesimo Ragni serve bene Morelli, in posizione un po' defilata. Il suo destro ad incrociare impatta su un ottimo Garau, su un capovolgimento di fronte. Al quarantatresimo puiscono i Rosso Blu. Bella la manovra sulla destra. Il pallone perde Marti, 6 invitanti ed il numero 7 infila imparabilmente Natale per lo 0-1. Piove sul bagnato al comunale, perché un minuto più tardi il guardaline richiama l'attenzione del direttore di gara per un colpo proibito di Bubalo ad un componente della difesa avversaria. Cartellino rosso e Castelnuovo sotto anche di un uomo. A rientro dagli spogliatoi, Di Fabio inserisce scacco per Ragni, ma i nero-verdi non riescono ad accelerare i ritmi del match. La Torres mantiene il pallino del gioco in mano. Il Castelnuovo in inferiorità numerica non è pericoloso. Al sessantacinquesimo ci provano prima Sparvole e poi Sanseverino, senza destare brividi a Garau. Alla mezz'ora della ripresa, però, la Torres ammazza la partita. Pregevole il cross di Lisai dalla destra. Di Akite incorna la perfezione ed infila Natale all'angolino. Neanche il tempo di festeggiare, che appena due minuti dopo i sardi calano il tris. Azione di ripartenza letale. Samuele Pinna è freddo da posizione favorevole a chiudere la partita, arrotondando il risultato. Gli uomini di Greco giocano sul velluto. Il tentativo a rete di Ruocco è sporcato in corna e andrà a retroguardia abruzzese. Anche Di Akite cerca la doppietta, mancandolo al volo per questione di millimetri. Nei minuti di recupero ci prova anche Maganuco, ma impatta sul muro giallo eretto da Natale. Non succede più nulla. Alla Torres i quarti di finale contro lo Scandicci. Al Castelnuovo testa e cuore sul campionato, in vista del derby fra Neroverdi e Abruzzesi contro il Chieti. No, dispiace quello perché noi ce la siamo potuti giocare fino in fondo. meno. Ce la siamo giocate fino in fondo, però in inferiore da numerica contro una squadra forte come la loro. Sicuramente le cose si sono poi complicate. Poi i ragazzi non hanno mollato mai fino alla fine e ci hanno creduto. Mi dispiace soprattutto per loro perché si hanno conquistato questa grossa squadra da affrontare. Abbiamo visto che potevamo creargli qualche problemino anche nel secondo tempo inserendo qualcuno un po' più fresco. Purtroppo è andata così, mi dispiace, però complimenti ai miei ragazzi. Sì, vedendo le partite siamo resi conto che il campo era un po' non come siamo abituati a giocare noi. Abbiamo fatto un approccio buono alla partita, secondo me. Chiaramente loro ci aspettavano che poi ripartire, quindi non era facile poi trovare spazi per giocare. Però nonostante tutto questi ragazzi hanno sempre provato a fare gioco. Poi chiaramente dopo aver sbloccato il gol, l'espulsione, la partita è andata un po' in discesa. Però poi nel secondo tempo abbiamo gestito anche la partita e penso abbiamo vinto meritatamente.